Non tutti conoscono cosa c'è scritto nell'articolo 9 della Costituzione italiana, eppure con le ultime tendenze a livello mondiale e soprattutto europeo in termini di svolta green, bisognerebbe rileggerlo e approfondirne i contenuti. In questo articolo c'è scritto La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. A discuterne è stata la sezione vivonese dell'Ancri, l'Associazione degli Insigniti al Merito della Repubblica, che ha affrontato l'argomento dal punto di vista scientifico, grazie al grande ufficiale Ezio Mesini, ingegnere minerario, professore ordinario di etrocarburi e fluidi del sottosuolo presso l'Università di Bologna, da quello legale, trattato dall'avvocato Angelo Calzone, esperto di diritto ambientale e delegato regionale del WWF Calabria, da quello teologico, trattato da Don Pasquale Rosano, parroco del Duomo di Vibolenza, docente di antropologia teologica presso l'Istituto Teologico Calabro San Pio X di Catanzaro, e infine da quello antropologico, curato da Maurizio Bonanno, sociologo e giornalista. Veramente soddisfatto di quella che è stata la riuscita di questo importantissimo incontro che abbiamo organizzato qui a Vibbo, era doveroso da parte nostra far conoscere quelle che sono state le modifiche apportate nel corso degli anni all'articolo 9 della Costituzione che non contemplava determinati capitoli essenziali perché potessero essere tutelati. Mi sono avvalso di figure professionali di indubbia capacità e valore che hanno veramente fatto delle relazioni molto semplici e significative che hanno dato appunto la giusta importanza a questo evento di oggi.